eccoci nuova edizione di tris sicilia dg anche oggi tante notizie ma prima di partire vediamo insieme i titoli principali monti iblei ad avola divampa un grosso incendio a rischio anche la riserva di cava grande la giornata della legalità un corteo dal campo scuola di siracusa ricorda le vittime della mafia cinque arresti per furto aggravato preso di mira il parcheggio dell'ospedale san marco operazione denominata dietro le mura de natalità e futuro incerto un tavolo tecnico per fronteggiare il fenomeno autonomia in armonia convegno progetti di inclusione i ragazzi down coinvolti in attività sono questi titoli di oggi tra poco partiamo con il telegiornale ma prima spazio alla pubblicità in attività in attività in attività qualità professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono physiorem medical center una struttura poli diagnostica con più di dieci anni di esperienza specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia il sistema di risonanza magnetica openmark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro physiorem medical center sedie operative a siracusa in via franca maria gianni 64 e a modica al centro commerciale la fortezza straordinariamente solo fino al 31 maggio dr 5.0 unica a 17.900 euro grazie al super bonus struttamazione valido su tutta la gamma dr corre in concessionaria nova auto concessionaria evo e dr via elorina 130 siracusa ed eccoci di nuovo in studio benvenuti a questa edizione di tris sicilia tg come avete ascoltato dai titoli d'apertura iniziamo inevitabilmente parlando della giornata della legalità a 32 anni dalla strage di capaci e tra le varie iniziative in città un corteo che è partito dal campo scuola di siracusa servizio d'apertura non bisogna diciamo mettere a tacere quanto è successo 23 maggio giornata della legalità giornata che ricorda la strage di capaci dove morirono il giudice antimafia giovanni falcone con nella moglie la sua scorta una giornata da tenere ben impressa che ricorda tutte le vittime della mafia una piaga da contrastare sempre il 23 come si sa è la giornata della memoria della legalità e abbiamo lavorato tantissimo e continuiamo a lavorare sul territorio per seminare legalità e abbiamo riscontrato una forte presenza e volontà da parte in primis delle associazioni ma anche dei ragazzi questa mattina il corteo partito dal campo scuola di siracusa pippo di natale si è impegnato nel divulgare la lotta all'illegalità alla mafia e mostra vicinanza ai familiari delle vittime di mafia noi in quanto giovani e in quanto eredi del futuro vogliamo ricordare quanto sia importante lottare contro la mafia e la nostra partecipazione attiva è simbolo che anche per noi è qualcosa di veramente molto importante è una giornata che deve ricordare chi effettivamente ci ha reso orgoglioso di essere siciliano come i personaggi che hanno perso la vita in questa giornata quindi ricordiamo falcone borsellino ma sono le persone che effettivamente ci hanno riscattato con il con la loro con il loro lavoro nel nell'orgoglio di essere siciliani noi crediamo sia invece importante ricordare tutte le vittime di mafia e attraverso la memoria avere quella spinta per impegnarci ed evitare che si possa tornare in quella situazione Cambiamo subito argomento e trattiamo di un rogo un rogo di vaste proporzioni che divampato sulle montagne di avola le fiamme alte si sono propagate mettendo in pericolo anche la vicina riserva di cavagande del cassibile vediamo il nostro servizio con immagini esclusive Un incendio di vaste proporzioni è divampato stamattina sui monti blei incontrata a carruvito nella zona di avola in pericolo la riserva di cavagrande del cassibile che si trova nelle vicinanze le fiamme che si sono sprigionate anche favorite dal primo caldo stagionale dal vento hanno messo in difficoltà le squadre di soccorso antincendio anche perché le vampate di fuoco si sono innalzate talmente tanto da creare difficoltà per il loro pronto spegnimento sono ben visibili persino dal centro abitato di avola il fuoco è partito dal basso verso l'alto nell'altipiano volese e questo reso davvero complicato il lavoro di spegnimento con le manichette da terra sul posto si sono recati grazie anche alla segnalazione dei gruppi volontari i vigili del fuoco il corpo forestale è intervenuta anche la polizia per sincerarsi che non ci fosse pericolo per le abitazioni della zona l'allarme è partito dai volontari del mai movimento antincendio ibleo assorvolare sulla zona del rogo due elicotteri uno con cestello e l'altro senza ma con un serbatoio e una proboscite per caricare e scaricare l'acqua si tratta di un ericsson il miglior mezzo per spegnimento aereo di incendi siamo ancora a maggio il caldo a foso estivo deve ancora arrivare e si presenta prontamente purtroppo il problema degli incendi nel territorio siracusano in questo caso nelle colline avolesi reclutamento e sfruttamento di manotobra agricola in condizioni di estremo sfruttamento approfittando lo stato di bisogno queste le accuse a un 31enne di adrano incensurato indagato appunto per sfruttamento del lavoro iniziamo così la pagina dedicata alla cronaca caricati e trasportati nei terreni per raccogliere arance extracomunitari trattati come schiavi costretti a lavorare da 10 a 12 ore al giorno sei giorni su sette è accaduto nella zona di mineo dove i carabinieri hanno fermato un furgone fiat tiveco con a bordo sette extracomunitari che stavano per essere portati in campagna quando i militari dell'arma hanno intimato l'alta al mezzo l'autista è fuggito lasciando gli extracomunitari nel vano posteriore i successivi controlli hanno poi consentito di accertare che tutti gli occupanti del mezzo erano privi del permesso di soggiorno e non avevano alcun contratto di lavoro identificato e rintracciato l'uomo un 31enne incensurato di adrano è ora indagato per reclutamento di mano d'opera agricola in condizioni di estremo sfruttamento approfittando dello stato di bisogno la procura distrettuale della repubblica nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri di paternò e dal nucleo ispettorato del lavoro di catania ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale di catania la misura cautelare dell'obbligo di dimora ad adrano ascoltati dai militari gli extracomunitari hanno riferito di essere stati ingaggiati dal 31enne e raccontato le massacranti condizioni di lavoro che per stato di necessità sarebbero stati costretti ad accettare con retribuzione a cottimo condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate e in violazione di qualsiasi normativa sul lavoro ci sposiamo a catania con l'operazione denominata dietro le mura che ha visto l'arresto di cinque persone sono accusate di rapina aggravata all'ospedale san marco furti e spaccio di sostanze stufe facenti avvenuti in carcere rubarono armati di pistola nel parcheggio dell'ospedale san marco e portarono droga e telefonini all'interno del carcere di piazza lanza a catania misura cautelare per cinque uomini accusati di rapina aggravata operazione denominata dietro le mura eseguita dalla polizia di catania su disposizione della procura distrettuale della repubblica l'ordinanza nei confronti di un 43enne di un 53enne di 2 59enne e di un 66enne in relazione ai delitti di rapina aggravata furti in abitazione e all'interno di autovetture nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti destinate in favore di un detenuto nella casa circondariale piazza lanza le indagini hanno permesso di acquisire allo stato degli atti in relazione a una fase processuale che non ha ancora consentito l'intervento delle difese elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento a vario titolo e con differenti profili di responsabilità di tutti gli indagati in una serie di attività delittuose di natura principalmente predatoria il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un'attività di indagine scaturita da una rapina commessa il 6 giugno del 2022 all'interno del parcheggio dell'azienda ospedaliera san marco ad opera di tre soggetti uno dei quali armato di pistola giunti a bordo di due motocicli nel proseguo delle indagini è stato possibile pervenire anche all'identificazione nella persona del 53enne di un altro di coloro che sarebbero stati gli autori materiali del reato nonché acquisire elementi indiziari in ordine ad una ulteriore attività delittuosa concernente la fornitura di droga tipo marihuana e hashish e di apparati telefonici in favore di un detenuto custodito presso l'istituto di piazza lanza si procedeva inoltre il 6 settembre del 2022 all'arresto in flagranza dell'uomo di 43 anni per la detenzione presso un deposito della sua disponibilità di due pistole e di due pistole mitragliatrici con relativo munizionamento il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti gli indagati i quali dopo l'espletamento delle formalità di rito sono stati tradotti presso la casa circondariale di piazza lanza catania per essere posti a disposizione dell'autorità giudiziaria parliamo di randagismo adesso perché dalla regione siciliana sono in arrivo soldi sono 5 milioni di euro ai comuni per prevenzione e ricovero dei canini 5 milioni di euro saranno erogati dalla regione ai comuni siciliani per coprire le spese sostenute nel 2023 per la prevenzione e gli interventi contro il randagismo emanato congiuntamente dall'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dall'assessore regionale per l'economia il decreto il numero 166 del 22 maggio prevede l'erogazione di somme che sono state parametrate alla spesa effettuata nel 2022 e che rientrano nell'ambito della ripartizione del fondo autonomie locali i 5 milioni di euro sono stati assegnati ai comuni quale quota parte dei costi affrontati per l'ospitalità dei cani randaggi nelle strutture di ricovero e custodia sia pubbliche che private convenzionate sulla base dei dati attestati dalle amministrazioni locali siciliane si tratta di un intervento introdotto dalla legge regionale 15 del 2022 che è stato finanziato dall'attuale governo tra i comuni siracusani che per il 2022 hanno attestato la spesa maggiore per il ricovero dei randaggi nei canili figurano al primo posto Melilli che ha certificato di avere speso 915.540 euro siracusa che ha speso 728.425 euro e Augusta che ha documentato di avere sborsato 518.616 euro i tre comuni sulla base del coefficiente stabilito di 0,2611.0207 riceveranno rispettivamente poco più di 239.000 euro Melilli di 190.000 euro Siracusa e di 135.000 euro Augusta per gli altri comuni la spesa si aggira dai 979 euro di Ferla ai quasi 287.000 euro di Priolo Gargallo il rimborso dai 255 euro di Ferla ai quasi 75.000 euro di Priolo. I comuni che nel 2022 hanno speso oltre 200.000 euro sono Priolo e Noto oltre 100.000 Lentini, Avola, Floridia, Palazzola Creide e Soltino sotto i 100.000 euro tutti gli altri dai 19.000 euro di Portopalo agli 81.000 di Rosolini. La solidarietà adesso con un gesto di solidarietà all'ospedale Umberto I di Siracusa sono stati consegnati 7 televisori al reparto di pediatria. Il reparto di pediatria di Siracusa si arricchisce di 7 televisori donati grazie all'iniziativa dell'associazione I Sorrisi degli Ultimi. L'associazione I Sorrisi degli Ultimi è nata cinque anni fa a seguito di nove persone che direttamente o indirettamente hanno avuto esperienze nel campo dell'oncologia. Chi con il proprio figlio, chi con i propri genitori, chi con parenti e perciò questi genitori decisero di trasformare le proprie lacrime in sorrisi. Perciò da cinque anni cerchiamo di portare sorrisi ai nostri bambini, principalmente ci occupiamo di oncologia pediatrica portando giocattoli ai bambini, però quando c'è l'esigenza, la necessità di fare degli aiuti anche per la struttura ospedaliera, proprio per il reparto pediatrico, rispondiamo presente come in questo caso. Ci siamo resi conto che c'era l'esigenza di fornire alla struttura pediatrica di televisori nuovi per poter permettere ai bambini e alle mamme, perché la maggior parte delle volte i bambini sono ricoverati con le mamme, un ricovero più accettabile, più consono alle proprie esigenze. I bambini potranno guardare i loro cartoni animati preferiti durante la loro degenza grazie al gesto di solidarietà di un'azienda di Siracusa. Incentivare altri a fare lo stesso, facendo capire l'importanza di queste attività nel territorio. È stata l'opportunità di coniugare un bel gesto, un qualcosa per i nostri bambini, unito a poterlo fare nella nostra città di Siracusa. Qui abbiamo un reparto meraviglioso e volevamo dare un nostro contributo come azienda siracusana perché i nostri bambini possano trascorrere i giorni del soggiorno qui nella migliore maniera possibile. Perché è stata un'iniziativa che abbiamo subito sposato senza minimamente esitare un secondo. Presente per l'occasione il direttore Alessandro Caltagirone, che tra i suoi progetti mira alla sensibilità umana all'interno dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Gestire quest'attuale ospedale con tanti progetti di ristrutturazione, di ammodernamento e di umanizzazione. Anche l'intervento di oggi, che è quello della fornitura di queste tv da piazzare nel reparto di pediatria, è un intervento di umanizzazione, ma non ci vogliamo fermare a questo. Quindi seguiranno tanti altri interventi di miglioramento e di abbellimento dei reparti. Poi in prospettiva il nuovo ospedale sarà un'altra cosa, ma per adesso dobbiamo gestire questo. Volontariato adesso con Guanti e Sacchi a Volontà, una zona della Borgata a Siracusa ripulita dagli attivisti. Attivisti volontari all'opera per il decoro urbano con la pulizia e l'abbellimento di strade e vicoli. A Siracusa, nella zona della Borgata, Guanti, Sacchi e tanta volontà e passione per la propria città. Fare per contagiare la città in primis e dei cittadini che la vivono. Riflettendoci abbiamo pensato di fare un'azione di riqualificazione. Provvederemo oggi pomeriggio a svuotare questi vasi, a riciclare i rifiuti. Abbiamo trovato uno sponsor, che è un vivario che ringrazio di Cassibile, che ci ha omaggiato delle piantine, ci ha omaggiato del terriccio. E da oggi iniziamo questa nuova attività chiamata il Mercoledì del decoro urbano. Chiediamo alla collaborazione dei cittadini, intanto aiutarci ad innaffiare le piantine che andremo a piantumare. E poi, se vogliono farci la segnalazione, vengono con noi, sarà un piacere dal prossimo mercoledì andare a fare questo tipo di attività. che è volontariato civico puro, in mancanza di chi dovrebbe farlo. È una rapposita rubrica che si chiama decoro urbano, che purtroppo in questa città manca. In questo gruppo di attivisti siracusani ci occupiamo di tenere un po' un minimo di decoro in più, ma in questa città siamo proprio all'anno zero e non abbiamo neanche collaborazione da parte dell'amministrazione. Noi comunque andiamo avanti, perché vogliamo bene la nostra città. Un problema significativo lungo i marciapiedi della città è quello delle deiezioni canine, che obbliga il passante ad uno slalom lungo il cammino. Deiezioni canine ce ne sono a non finire qua, arrivando io a piedi, ne ho trovate, non so. Presentato il progetto Autonomia in Armonia, un'iniziativa di inclusione sociale per le persone con sindrome di Down. La presentazione è avvenuta all'Urban Center a Siracusa. All'Urban Center di Siracusa presentato il progetto Autonomia in Armonia, realizzato dalla IPD, Associazione Italiana Persone Down, sezione di Siracusa. Un'opportunità di inclusione per i ragazzi che vede l'entusiasmo della Presidente Simona Corsico. Che attività sono previste con i ragazzi? L'obiettivo principale di questo progetto finanziato dalla Regione Sicilia è le autonomie. Le autonomie dalla tenera età fino all'ultimo giorno della nostra vita sono fondamentali. Presenti anche tanti genitori che credono fortemente nel progetto. Come si sente in merito a questo progetto e cosa vuol dire a questo punto per lei autonomia? L'autonomia per le mie ragazze è molto importante perché purtroppo nel nostro ambiente non è che ci sia tanta... È una realtà un po' chiusa anche a livello lavorativo e per lei è molto importante perché anche se io a casa cerco di renderla quanto è più possibile autonoma, il progetto della dottoressa Spadone è interessantissimo. Ad affiancare la IPD Siracusa la TMA, Terapia Multisistemica in Acqua per l'Autismo Sicilia. Il trattamento altro non è che delle esperienze guidate all'interno di un setting e quindi di un ambiente strutturato volto a migliorare potenziale le abilità di vita quotidiana di tutti i nostri ragazzi. Le associazioni siracusane vicine all'inclusione dei ragazzi con sindrome di Down. Saranno inseriti i nostri ragazzi in gruppo di pari così da essere autonomi nella socializzazione e nel confronto fra i pari. Il progetto si avvale tra gli altri della collaborazione del Comune di Siracusa, Siracusa Città Educativa, del Comune di Ferla, della Neuropsichiatria Infantile di Siracusa e della Lega Navale Italiana Sezione di Siracusa. Siamo allo sport, oggi dedicato alla palla nuoto, quindi all'Ortigia che però ha perso, ha perso la gara 1 contro il fortissimo Brescia, comunque sabato prossimo potrà e dovrà riscattarsi alla piscina caldarella di Siracusa. La gara 2 c'è in palio la qualificazione in Champions League, quindi il terzo posto in campionato. Non riesce l'impresa all'Ortigia che viene sconfitta a Brescia 12 a 10 al termine di una partita tirata dove i biancoverdi vanno spesso sotto per poi reagire e rientrare in gara. I ragazzi allenati da Piccardo hanno dovuto rincorrere a lungo gli avversari, arrivando poi stanchi in alcuni momenti decisivi che potevano cambiare il destino del match. Un match che i Lombardi iniziano meglio portandosi sul triplo vantaggio a metà primo tempo. Uno schiaffo che scuote l'Ortigia, capace di rimettersi in carreggiata con le reti di La Rosa, Ferrero e Cassia su rigore. L'equilibrio dura poco perché sul rovesciamento di fronte Lazzic si inventa la Beduina che chiude il tempo sul 4-3 per i padroni di casa. Il secondo parziale è ancora più vivace e nuotato con tanto agonismo e con il Brescia che parte nuovamente bene allungando fino a più 3. L'Ortigia però non si abbatte rifacendosi sotto con Bitazza in superiorità e Cassia su rigore. I biancoverdi hanno anche l'occasione per pareggiare ma sbattono su Tesanovic e così il Brescia con la girata di Gianazza ai 2 metri si riporta sul doppio vantaggio. Stesso copione poco dopo, Cassia trasforma il suo terzo rigore personale, Gianazza risponde dai 2 metri. A metà gara è 8-6 per i Bresciani. Nella terza frazione la partita si fa più spigolosa e nervosa. Lo squillo di Alesiani vale il più 3 per Brescia che poi allunga ancora con del basso, espulso subito dopo la rete per aver esultato con insistenza in faccia a Tempesti. I biancoverdi mantengono i nervi saldi e Cassia accorcia ancora tenendo in gioco l'Ortigia che nel quarto tempo ci prova, si porta sul meno 2 e si regala più volte la possibilità di avvicinarsi ulteriormente. Il portiere Tesanovic e qualche soluzione affrettata però impediscono la rimonta. Alla fine la spunta è il Brescia e per i biancoverdi sarà obbligatorio vincere sabato pomeriggio a Siracusa per rimandare il discorso terzo posto a gara 3, sempre a Brescia. L'approfondimento di oggi è dedicato all'allarme de natalità e a un futuro incerto, un tavolo tecnico quindi per fronteggiare questo fenomeno che porterà al cambiamento drastico della società. Vediamo. Allarme de natalità, i numeri parlano chiaro. Secondo i dati provvisori diffusi dall'Istat e sugli indicatori demografici emerge una diminuzione delle nascite negli ultimi due anni di 14.000 unità, quindi il meno 3,6%. Grande incertezza, difficoltà, sogno di un immediato sostegno per le famiglie. È importante parlarne. Noi come Comuni aspettiamo indicazioni importanti. Poi da più parti si è chiesto e si vuole concretezza. Da qui l'esigenza di analizzare il fenomeno, cause, effetti e possibili soluzioni. Il Centro Servizi Volontariato Etneo riunisce al tavolo della Sala Convegni del Sant'Angelo Americi esperti, istituzioni, associazioni e cittadini per progettare e avanzare richieste di intervento. Mettere al mondo un figlio deve essere una gioia da poter abbracciare con sostegni istituzionali per i genitori, così da garantire serenità. Oggi abbiamo la necessità di creare un sistema, ecco perché ritorno su questa parola, ecco perché ritorno sulla parola sinergia che va fatta da diversi attori sociali, dai ministeri, va fatta dai comuni, va fatta dalle regioni. Oggi dobbiamo mettere in campo le politiche serie che non è solo slogan facciamo più figli ma creiamo un sistema che permetta, ecco in qualche modo, di far sì che veramente possano questi figli essere parte integrante di questa società. Ecco presente anche il Presidente dell'Anci, Sindaco, quanto a livello nazionale bisogna operare per permettere a voi poi a livello locale di poter intermediare con le famiglie e le problematiche insomma di questa società. Bisogna operare, agire subito, non c'è più tempo da perdere, se vogliamo cambiare il trend lo dobbiamo cambiare convinti di quello che facciamo, i dati ormai, l'ho detto nel convegno, i dati ormai sono chiari, non vengono detti da noi così nei convegni ma vengono certificati scientificamente, cioè c'è il rischio che questa società vada fuori controllo dal punto di vista socio-economico, cioè noi parliamo di dati che si sono trasformati negli anni in maniera incredibile. Noi come Comuni aspettiamo indicazioni importanti. Dati allarmanti trascurati, necessario adesso attenzionare con serietà e con celerità a progettare strategie collegato da remoto il Presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo, fondazione che si occupa di organizzare ogni anno gli stati generali della natalità per fronteggiare il problema in Italia. Il Presidente ha relazionato sul fenomeno, meno figli, meno giovani e quindi è uno spaccato della trasformazione economica e sociale del futuro. Un'analisi dettagliata del nucleo familiare attuale la fa il sociologo esperto e il professore in scienze della formazione dell'Università di Catania, Augusto Gammuzza. Professore, se volessimo fare un'analisi della famiglia, della società di oggi attuale? Allora, sicuramente rimane il centro, il nucleo generativo di quelle che sono tutte le relazioni di base che ci permettono di sopravvivere come comunità umane. Dall'altro lato, attraverso un periodo di grande incertezza, difficoltà e ha cambiato e mutato la sua forma con il cambio e con la costante attività di mutamento a cui si connette così la famiglia. E quindi all'oggi troviamo forme differenti che incarnano forme di convivenza umana le più differenti possibili. Ovviamente questo tipo di tema va approfondito, analizzato continuamente per prendere una serie di scelte che siano sempre motivate e fondate su una evidenza scientifica. Al tavolo dell'incontro, dal tema più giovani più futuro, Salvo Sorbello, presidente delle associazioni familiari di Siracusa. Un'analisi sulla situazione siracusana. Purtroppo in questa città molto spesso e anche nella nostra provincia le famiglie che mettono al mondo dei figli sono invece penalizzate ed è una delle prime cause di povertà. La nascita del secondo figlio statisticamente anche nella nostra città è una delle prime cause di povertà. Questo è inaccettabile, come è inaccettabile che non ci sia un asilinido gratuiti per tutti, come non ci sia la possibilità per le donne che lavorano di poter proseguire la loro attività lavorativa tranquillamente. Sono tutte scelte che dovrebbero essere prioritarie dell'amministrazione di Siracusa e di tutti gli altri comuni della provincia. Noi giovani non dobbiamo avere paura di formare una famiglia, deve tornare la gioia di dare la vita. Sono queste le parole dell'assessore comunale alle politiche sociali Marco Zappulla. Io oggi non parlo da assessore, parlo da giovane di 33 anni, papà di una bambina di un anno e tre mesi e molti amici miei non possono purtroppo avere una famiglia nonostante la loro volontà sia quella di averla perché non esistono a oggi politiche e agevolazioni. Parliamo di accesso per la prima casa, parliamo di precariato, opportunità lavorative che purtroppo non ci sono. Oggi il figlio viene visto, un figlio viene visto più come un costo, invece un investimento perché il figlio è vita, amore e da qui parte questo messaggio oggi da Siracusa. È bello sentire le sue parole perché sicuramente come le concepisce poi le mette anche in campo in qualche il suo ruolo qui a Siracusa. Assolutamente sì, mi faccio promotore di queste politiche ma è chiaro che qui abbiamo tutti bisogno di interventi che siano nazionali più che locali. Però questo è un bel messaggio perché noi ci siamo. Grazie. 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 Grazie.